Ehi la ciurma! Io sono Mazzetest e benvenuti in questa nuovissima serie! Spero che vi possa piacere! Dedico questa serie a Mark88 perché il gioco in questione me l'ha regalato lui per Natale Si chiama Sid Meier Spirates Non so se lo conoscete, è un gioco un po' vecchio a cui io non ho mai giocato però Essendo in tema Con il canale Proviamoci Inizio con una celebrazione Indebitato per anni col marchese di... La famiglia è... La prosperità della famiglia fu presso risaurata Questa flotta doveva arrivare domani portando sia le speranze che la salvezza Ma la celebrazione fu interrotta da un ospite non desiderato Il marchese stesso arriva La flotta è stata distrutta L'ospite non è così l'abbiamo La che l'abbiamo è stata distrutta La famiglia è stata distrutta ma di loro non resta l'ultima e lui hai capito che scappò dalla scelta della scelta il giurante deve essere cominciato al Valle infatti 10 anni dopo ora ha cresciuto la sua altezza normale un giovane a pizzeria inizia l'avventura per la sua famiglia e ristaurare la sua fortuna il rispondente in una volta la sua avventura oh, i metto il rispondente i metto il rispondente il rispondente il rispondente Questo è un po' speciale Tedeschi inglesi, che stanno cercando per... Questi sono tra i tedeschi vostri inglesi Tedeschi è un po' speciale E' un po' speciale Lui mi sembra più vera soggio, quindi mi sarà più da mangiare Tedeschi E' un po' grande mister E' un po' grande mister Se stesso E' un viaggio che si trova affrontato qua E' un capitaine era crudele, insomma L'ho fatto diventare tutti matti Sì, naturalmente stanno là sopra a combattere. Sì, sono diventati dei pirati, andiamo ai Caraibi, bella vinta, sono diventati capitano di noi. E' un'altra parte da salvare. E' un destino che ti aspetta. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Sessava in un'altra parte dell'altro, e' un'altra parte del mercato, e' un'altra parte del E' un giocetto di oro. 13 di 5, 6 mesi, 0, 8 cannoni, di niente oggetti speciali, stato della flotta, non abbiamo nascito niente. No, la Francia è in guerra con la Spagna, una mappa del tesoro, noi ci siamo qui, oh, ce n'è da visitare qua, e questo cos'è? 10 pirati migliori, no, noi siamo 10, oh, il primo è Henry Morgan, c'è Capitano Kid, il loro nese, ma chi non li conosco, ah sì, Barba Nera, Black Mirror, Fire Otopedia, LOL, c'è anche, andiamo a Milagia, no, spettacolo, però è in inglese, non c'è la posizione, mi sembra che forse dovesse essere anche in italiano, no, non c'è il 7, chissà, no, facciamo un po' una migliore rivoluzione, no, continuo. Scusate ragazzi, ho fatto il refresh della pagina e ho scoperto di registrare, non me ne ero accorto, ma non è successo niente, siamo andati semplicemente dal governatore, che è un tizio molto bello, ci ha dato una lettera di marca per attaccare i loro nemici, quello è francese, i loro nemici fra spagnoli e inglesi, e ci sto facendo vedere una mappa, dice che la città più vicina, nemica, è Trinidad, e siamo qua, Martellita, e Trinidad è laggiù, ma possiamo già attaccare una città, siamo delle checche? Don't listen! No, c'è un... Una nave commerciale in spagnola che stava andando in quella direzione, eh? Au revoir! Au revoir, monsieur, monsieur. Allora, vediamo, andiamo a visitare la tavera, vediamo che ci siamo, guarda quante gente, c'è un tizio a nascolto. questo qua era il nostro, questo ci sono tutti a tavola, questo ci sono quasi che ci sarà un tappo, questo ci vuol dire quasi, questo è un tappo, questo è un tappo che farà il tappo di potere svolgente, questo ci darà la decisione ad un giorno, cosa ci darà l'idea del suo anzo? andiamo a vedere se non lo scappano di queste tette Bartolo Roberts ah ok ok però è troppo forte c'è detto che è la ok ah guarda si sta armando ah no è epico allora sui progetti di Barbados e di Anembre di Yoshi di Torna e di Torna e di Torna ah dici solo da di Barbados non la migliorano per fare di Torna e di Torna non ci sono un video di Torna e di Torna un video di Torna e di Torna e di Torna ti offrono una parte mia mappa segreta con la locazione del di Torna e di Torna e di Torna e di Torna per 200 euro no 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 non abbiamo soldi dai infatti ora già ci vogliono vendere il mondo qua andiamo a capire che è calmi calmi sono qua per parlare da uomo a uomo ragionevolmente ma i locali sono in gran parte molto contenti questo sa mica di locali sono ben tirati ma non è contento ma non è contento guarda un po' guarda male ma non è stato sicurato ah però dici 32 uo si offrono di entrare nella tua giurma di 40 non si possa mantenervi però ci troviamo benvenuti 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 ah quello però non c'è non c'è benvenuti sono hitterare bianca non lo faccio benvenuti 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 che hai ne sono ne sono Ah, non è bello, scusate. Ah, ma non me l'ha segnato. Ah, ma non me l'ha segnato. Ma dici, tu puoi fare il gesto di prodotto? No. Ma che bello, Lominus! Ehm, per prendere quattro punti di tutto. Ok. Ah, ho tutti i cementi in fondo. Direi. Allora, è 5 canellate. Questa morba. Non te l'abbiamo pagato, però. Oh, fitto. 8 o 1? Ok. L'abbiamo comprato, però, scusa. Sì, l'abbiamo comprato. Sì, l'abbiamo comprato. Ah, è... No, ci vediamo qualche segnato. No? Ah, vitto. 6 e 4 si muove. Ok. 2 si ferma. 8. Accelera. 9. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 6. 7. 8. 8. 10. 10. 9. 10. No, non andiamo a schiacciarci da quello che fa 3 Ah no, dobbiamo ancora Tempesta, oddio Quello è grande per me, non voglio quella C'era una roba piccola Quella altra più grande Io voglio una barca piccola da assaltarmi Via, 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 via Lasciami in pace Dov'è di che devo andare? Di qua Andiamo di qua Che bella però sta visuale Sto trasportando un nuovo governatore No, è arrivato un po' di giallo No, non voglio andare Ma qua non c'è più la tizia Ah, devo andare più giudice Uh, Bart Roberts Grazie Tio 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 Posso cominciare con un microvasione? E se andassimo di attaccare con l'inglese dirà? No, però noi non possiamo guardar con l'inglese Allora, andiamo a vedere se il mercante... Ma no, ma costa ancora meno lo zucchero qua Ah, è l'isolata Oh, guarda che bella cittadina Questo è tutto magro, guarda che bel bastone che ha Ah, sono appena stato nominato nuovo governatore di Nevis Ho buoni piani per la crescita economica Ma ZS? Mi auguro che tu proteggerà le mie navi Ok, vuole il nostro aiuto? Spagna Ah, mi chiede se posso proteggere una nave fino a Nevis O devo andare a Nevis Boh, non mi chiede se non è vero Quentin Zella Ma questo è per la sfida con i pirati, non mi interessa Ardyn Che no, ragazzi Sludan Ma quello che vuole è per l'argomento Questa è sicura Che non è l'argomento Questa è una cosa ricche Questa è anche non c'è qualcuno, con un'errore Che cosa ti c'è? I' per chi ho una piatoria Un'errore 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 Mi piace, buoni soldi, ma è buon ragazzo. Allora... Eh andiamo qui, allora. Allora voglio cercare l'altro presto. Questa qua è il basco. Questa per la fiducia portare in un auto. No, non è vero. Non è vero. La fiducia portare in un auto. Non c'è una question. Ma io non voglio a questo di Bart Robert, ci voglio... Oh, ma là c'è una Bart distrutta. Dove dobbiamo andare? Cos'è questo? Fino là dobbiamo andare. Sarà vincente di sicuro. Non si può fare una pausa. Ma dove sta andando questo qua, scusa? No, no, stai seguendo noi. Lo. Ora speriamo che ci fermi un altro qua. Allora possiamo mettere il coslo? Oh, sì! Perfetto! Così la faccia pepatino Ok! Non posso comprare Infatti Compre le lezze per 5 volte Pensate qualsiasi Preparhese però che stanno 48 l'uno, mannaggia no no no, non ora non ora, non ora, non ora, non ora però non so quanti costano buzzi queste altre robe in giro, vabbè proviamo ad andarcene non è la nuova non è la nuova deve andare a neve in parte mica dove si parte di me Oddio! No 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 no! Dobbiamo salvarlo! No! 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 Oddio! 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 oh 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 si yeah yeah ce l'ho fatta è un spettacolo devi schifare per attaccare eh ah uno è molto bravo quindi finisce noi ah siamo in 34 ne abbiamo pochi uomini venghice guarda quanti soldi ho preso mmm vanno più cibo bene cibo 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 posso prendere anche i cosi? mmm non 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 ma non 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 Dov'è a mantenerlo? No, poi andiamo. No, però i cannoni costano di chiudere il cibo, fai anche i cannoni. Ah, posso darci una promozione, sei un inglese che gli spagnoli, è buono. Molto buono, è bene scoperto, faccio il contatto abbastanza. Dov'è andare in su di là, vero? Si. Lo portiamo l'acqua e ce ne andiamo. E' lento il tizio, vieni. No, hanno catturato la città di Montserrat. Ma non posso rallentare ancora di più, no. Vabbè, siamo arrivati. No. 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 C'è la taverna e qui andiamo ce n'è Guarda questo è sexy Ma ancora delle mappe Non voglio mappe, scusa Test Assentis Su darn Ah, Rocco Brasiliano, qui parla di Rocco Brasiliano Dai, si venite Perfetto, vediamo che cos'è Allora, quindi hanno un sacco di cibo qua Sette gorilla Ah, vedi quei woods avremmo potuto venderli per più Però le spezie costano molto meno utilità 40 e 48, erano di là Ci possiamo vedere i cannoni ma solo per la piccola, no? Però le spezie 19 non è male Sì, stanno Siamo Sail away Mi sta prendendo troppo bene stupendo Ah, abbiamo preso un punto pito Fama Prendendo soldi C'è la tua promozione Sto ripetendo I miracoli famosi Trovando dei figli nascosti Porteggiando le figlie dei governatori Salvando i tuoi parenti scomparsi Scoprendo l'antica città E sconfiggendo Il cattivo Marchi della Montalbain Che è quello di prima Credo già Credo C'è quello di prima Credo C'è quello di prima C'è quello di prima Credo già Per quattro mesi Andiamo in Guadalupe Andiamo in Guadalupe Che devono Devono darci una promozione Allora, parliamo col governatore Ciao Caro mio Come stai? Caro mio Sì, siete in guarda quelli spagnoli Ah Prima era l'età anche Capisco che ho recentemente Ricapturato un brigantino pirata Eccellente Il re Sarà compiaciuto Presto sarei promosso capitano Ah, perché all'altro Ho fatto anche l'altro piacere, diciamo Commercio con il mercante Andiamo a vedere cosa Ehm... 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 Giro proprio dalla porta sbagliata Allora, sicura quando dispendono In questo gruppo Dello dispendono Di facile Ehm... C'è quello che si parla C'è nessuno Ehm... Ehm... Martinique Per quanto dovrei anche far riparare la nave, non lo so Quanto danno ha La Britta Vedete se qua invece ne hanno bisogno di cannoni No, peggio spendere di notte Ma questo qua, posso guadagnare un po' sul cibo Non avessi comprato i beni preziosi Questa è una grande Questa è una grande costa tutto il niente ah perché non ne ho lol lol la cosa è rimasto a testo della nave piccosa no poco cosa è piaciuta credo che tu abbia una sorella che è stata cioè che è scomparsa da molti anni ah ne ho scritto di Santiago andiamo a Santiago allora sei la way? no veloce era Santiago sono Parade Riders Oh 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 Si Oh Oh Eccola Yeah Yeah E E Viva mi cari Un sacco di soldi I 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 Stiamo finendo il cibo, tra l'altro Santo Domingo, noi non dobbiamo andare a Santo Domingo, dobbiamo andare a Santiago Di nuovo è rallentato, forse vicino alle coste va lento No Sono bene a passenza lontano della posta, non so Non so Ehm, ci siamo quasi? Quasi! ha sei troppo tempo che siamo in, un buco di mare vogliono affermarsi da qualche parte Vengonoो compabile da noi tutti i luoghi tutti i luoghi Un posturist French trade port E' un posturist interessante Allora, commercio! Proviamo a diventare costruzze per tre, se no... Però dobbiamo comprare gli SSC Quanto si è iniziato? Proviamo a comprare il governatore per vedere se si... Sì! Capitano! Oh! Un'estate? C'è una cosa di 50 acri al di fuori della città Però... Però... ... 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